Un nuovo pensiero, che cosa produrre e che cosa non produrre, lasciarci il fossile alle spalle, due righe la politica, non è quello che dice Vendola che la politica è la sistemazione della complessità, la politica è semplice, sono due righe che fanno andare avanti il mondo, due righe che possiamo capire tutti, sono benissimo, entro il 2040 da oggi tutta l'elettricità si farà con le rinnovabili, entro il 2050 tutta l'energia si farà con le rinnovabili, lo Stato si prende in solo, lo Stato noi, non questi, noi quando saremo dentro, noi ci prendiamo l'onere del prezzo della benzina e allora noi possiamo fare un discorso, possiamo fare un discorso e dire signori da oggi entro cinque anni il prezzo della benzina andrà a dieci euro al litro, No, 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 non ti spaventare, dieci euro al litro perché? Perché allora chi consuma molto, chi fanno macchine che consumano non le faranno più, e allora diventeranno concorrenziali le macchine elettriche, le macchine a idrogeno, le macchine con altre energie, perché non sono concorrenziali, perché il mercato racconta delle balle, perché un litro di petrolio non può costare così poco con i danni che fa Lasciamoci fuori, l'agricoltura, cazzo, io sono andato nel Sarri in Gran Bretagna, fanno già la permacultura, ragazzi giovani che fanno l'agricoltura senza mezzi a benzina, senza mezzi a petrolio, non hanno più concimi chimici che si fanno col petrolio, permacultura, Ho visto mucche al pascolo d'inverno, come cazzo fate? Noi li dobbiamo ricoverare e mangiano le mucche, devi fargli il fieno, il fieno lo fai con i mezzi meccanizzati che consumano petrolio, come fate voi? Noi abbiamo piantato 22 tipi di erba, hanno sempre da mangiare e il pascolo sta fuori, poi facciamo la permacultura, la permacultura è ettaro, lavora molto di più che quando ci metti i pesticidi con la chimica La permacultura è far lavorare la natura, mettere insieme cose che distruggono l'antagonista dell'altro, fai lavorare la natura, tu semini due volte all'anno e raccogli due volte all'anno, poi fa tutto la natura, ci vivono benissimo Gli orti, il cibo vicino, il petrolio è andare sempre più su e il 90% della nostra vita dipende dal petrolio, ma siamo scemi, alta velocità, le merci, io sto a Genova, metà dei container sono vuoti La Cina non esporta più, l'India si è fermata, il prezzo del petrolio va su, oggi un container da Pechino a Genova costa 4 mila euro, da Genova a Palermo 12 mila Noi siamo fuori, siamo morti